dunque anche oggi questa mattina la polizia di stato ha fermato un auto che diciamo circolava senza assicurazione e tra l'altro adesso abbastanza si fa anche abbastanza di fretta basta rilevare la targa e c'è il sito che immediatamente ti segnala se l'auto è con l'assicurazione scaduta e addirittura anche con l'auto scaduto e per chi gira senza assicurazione c'è prevista una sanzione che va dagli 800 anche fino a 3000 euro poi dipende da varie situazioni se è recidivo questa mattina come prevede la prassi l'automobile è stata fermata poi stata portata via da un caro trezzi allora c'è da dire che a volte nella vita ci sono diciamo circostanze per cui per problemi per tutta una serie di cose può succedere che in buona fede qualcuno diciamo si dimentichi di pagare l'assicurazione magari crede che l'ha pagato uno per l'altra insomma succede potrebbe succedere non deve succedere ma a volte succede non c'è differenza tra chi gira con la macchina senza assicurazione in buona fede e chi invece diciamo gira sapendo ben consapevole che sta girando senza assicurazione c'è una cosa da dire però che chi per un errore per una dimenticanza perché magari in casa ha avuto una disgrazia quindi ricordiamo che ancora qualche anno fa la prescino la moglie dell'ex governatore del veneto Giancarlo Galà è stata fermata dalla polizia ed era senza assicurazione ecco questo non per giustificare nessuno per dire però se qualcuno gira per strada con l'automobile ben sapevole che consapevole che è senza assicurazione permettetici è un bene incosciente grazie a tutti